Pace e bene. Oggi è il 3 di ottobre e stasera ci sarà il transito di San Francesco di Assisi. Ecco, nelle fonti francescane, San Francesco aveva conosciuto molto tempo prima il momento del suo transito, quando il giorno della morte fu imminente, disse ai frati che presto doveva deporre il tabernacolo del proprio corpo come gli era stato mostrato da Cristo. Erano passati due anni dall'impressione e l'estimate e vent'anni alla sua conversione. Il San Francesco aveva ricevuto l'informazione del Signore che sarebbe morto presto e che quindi doveva prepararsi, ma lui aveva già ricevuto l'estimate due anni prima e praticamente era ormai vent'anni dalla sua conversione. Ecco, San Francesco si è dedicato totalmente al Signore. Leggiamo ancora Condotto al luogo predetto per mostrare con l'autenticità dell'esempio che nulla gli aveva in comune col mondo, durante quella malattia che mise fine a ogni infermità, si pose tutto nudo sulla terra e voleva in quell'ora estrema lottare nudo col nemico nudo. Giacendo così denudato nella polvere della terra, la taleta di Cristo con la mano a sinistra ricoprì la ferita al fianco destro che non si vedesse e levava al cielo, secondo il solito, la serena faccia, tutto teso a quella gloria, incominciando a magnificare l'altissimo. Ecco, lui si è completamente dedicato al Signore e quindi è nato nudo sulla terra, ci ricorda anche Giobbe che nudo sono nato, nudo vado a morire. Quindi questo essere consapevole che siamo qua sulla terra per un periodo e questo periodo va dedicato al Signore. Lui vi è riuscito come un atleta veramente a dedicarsi completamente al Signore perché dopo la conversione ha dedicato la sua vita al Signore con penitenze, con digiuni, con glollode, con gloria, con canti, veramente totalmente unito a Gesù. E dice ancora Inoltre lasciò loro il testamento ai frati per diritto di successione, il possedimento della povertà, della pace e gli ammoni perumurosamente a tenersi fissi alle realtà eterne e a premunirsi contro i pericoli di questo mondo. L'indusse con le parole più efficaci che potè a seguire perfettamente le orme di Gesù crocifisso e mentre i figli stavano tutti intorno a lui, il patrigarca dei poveri con gli occhi ormai offuscati, non per la vecchiaia ma per le lacrime, l'uomo santo, quasi cieco ormai prossimo a morire, incrociò le braccia stesse su di loro, le mani in forma di croce e benedisse tutti i frati presenti e assenti nella potenza e nel nome del crocifisso. Chiese poi che gli venisse letto di Vangelo secondo Giovanni. Prima del giorno della Pasqua voleva sentire in esso la voce del diletto che bussava dal quale lo divideva ormai soltanto la parete e la carne. Finalmente, siccome si era compiuto in lui tutti i misteri pregando e salmeggiando l'uomo beato, si addormentò nel Signore e quell'anima santissima sciolta dalla carne venne sommersa nell'abisso della chiara chiarità eterna. Quindi ecco, San Francesco ha benedetto i suoi frati, era circondato dai suoi frati e lei ha benedetti prima di morire. La morte è praticamente un passaggio verso il cielo. Ecco, questo è praticamente il passaggio che noi festeggiamo, questo transito, dalla dimensione terrena a quella celeste. In quel stesso momento tutti i suoi frati e i discepoli, veramente famoso per la sua sanità, vide l'anima, un frate vide l'anima beata salire direttamente in cielo e aveva la forma di una stella fulgissima. beata Francesco, quindi apparve pure a un vescovo dopo la morte. Poi sappiamo che Francesco ha fatto comunque miracoli anche dopo la sua morte. Ecco, quello che oggi il Vangelo ci parla è proprio che Gesù è convinto, va convinto verso Gerusalemme e Gerusalemme incontrerà la morte, la crocifissione e poi la risurrezione. Ecco, la crocifissione e la risurrezione sono un po' il tema di Francesco, che è l'essere nuova creatura. Crocifissi con Cristo per risorgere con lui. Ecco, Francesco ha proprio preso di mira, diciamo, la crocifissione di Gesù e si è completamente unito a lui per la risurrezione, quindi per la vita eterna. Lei è un grande dono di fede e di costanza con tutte le fatiche, ma Francesco è un esempio veramente eclatante di questo. E quindi ecco, Santa Chiara ebbe un miracolo grandioso, quello che la rende anche patrona del televisore e del fatto che lei ha avuto la grazia di poter vedere il funerale di San Francesco in convento, chiusa, e quindi di poter avere assistito al funerale di San Francesco. Questo, diciamo, lo dicono proprio le cronache, una testimonianza forte. E quindi ecco, proprio chiediamo al Signore questa grazia di poter essere anche noi capaci di vivere per il Signore. Padre nostro che sei nei cieli e sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci la tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte, ame. Gloria al Padre, al Figno e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli, ame. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente, invenica, Padre, Figno e Spirito Santo. Buona giornata.